sui problemi legati all'elezione di midterm. Io ho preparato, e la voglio mostrare, un'immagine sempre dal Corriere della Sera, noi prendiamo notizie da questi giornali che ovviamente noi attacchiamo qualche volta dicendo anche che sono veramente neanche carta da bagno, però su queste notizie che sono inoppugnabili noi ci facciamo aiutare proprio da loro per evitare che qualcuno dica eh ma non è vero, ve la siete inventata sta cosa. Vediamo che cosa dice Zuckerberg sulla questione della censura su Trump e su tutte le altre questioni, eccolo qua. Zuckerberg ammette che Facebook censurò un articolo su Hunter Biden, seguimmo le indicazioni dell'FBI, cioè che cosa dice Zuckerberg? Zuckerberg dice l'FBI mi dice di essere vigile, di censurare, di spegnere, di attaccare, io lo faccio, questo. E quindi giustamente i trampiani sono in rivolta perché dicono ma avete visto che abbiamo ragione, cioè non è un social libero, non si può parlare liberamente. Se qualcuno parla di cose che sono sgradite l'FBI dice a Zuckerberg questo, come è? Armà questo mo' cacci, ti ricordi il film di Alberto Sordi? Ecco, cioè e quindi questo è quello che accade in rete. E questo è quello che accade con i finti debunker, quelli che si autodefiniscono eletti, no? Gli illuminati anche loro, gli illuminati della verità, che sono i più sparacazzate del mondo perché anche recentemente su molte questioni e noi la prossima settimana ne faremo proprio veramente una puntata su questo, ne hanno sparati tutti i colori, compreso il tipo che io non voglio neanche nominare e che immagino la gente non sappia, ma noi sappiamo benissimo di chi si tratta, perché non vale neanche la pena ragione Alessandro, sono persone che vivono con l'ordine di rompere i coglioni al sistema che invece deve essere lasciato andare. Sono dei vuotavasi, nei vecchi reparti li chiamavano vuotavasi, erano gli serventi che devono vuotare le padelle. Esatto, poi magari inciampano in qualcosa, tant'è che noi li portiamo anche in tribunale perché poi il luogo più giusto per dibattere delle diffamazioni, di queste cose violente che incitano l'odio peraltro tra le parti, qualche volta bisogna portarle in tribunale, aspettarsi che un giudice decida sul loro operato e infatti con il signore e i suoi capi ci vedremo probabilmente a breve, fra un paio di mesi, credo adesso non so le date precise, però questo è quello che accade, queste sono persone che purtroppo tutti possono notare, sono loro che dicono le scemenze. Questi fanno il debunker dei miei, non lo dico, ma veramente sono dei personaggi incredibili, sono delle zanzare moleste, guarda, e poi io ho detto un'altra cosa, allora naturalmente sono scatenati tutti perché io poi mi cerco i nemici senza saperlo e ho detto guardate che voi debunker, io ho fatto fare uno studio ai miei masterizzanti che adesso prima o poi metterò a punto, dove risulta che loro sono, da chi sono finanziati, i principali e si scopre che sono sempre gli stessi, non a caso questo qui di cui abbiamo parlato ha un accordo con Facebook, Facebook ammette di aver eseguito gli ordini dell'FBI e quindi a questo punto tu ti fai pagare da indirettamente, da chi prende gli ordini direttamente, da chi prende gli ordini dell'FBI, quindi di cosa mi state parlando? Io ne ho detto la vostra delegittimazione emerge dal fatto che se voi debancaste, per usare un termine orrendo, a 360 gradi, mi starebbe bene e infatti gli ho detto mi sapete dire perché fate una ricerca su come mai per un effetto avverso in Italia ce ne sono 4.600 negli Stati Uniti, fatemi un debunking come mai non sono state fatte le autopsie e via via, naturalmente su questo non ti possono rispondere perché loro non sono interessati, loro seguono soltanto una sola linea che è quella che gli dà i soldi, quindi è un conflitto di interesse enorme esattamente come quello dei virologi. Non voglio fare nome ma sono aggredito da giorni da un debunker spagnolo, di origine spagnola, il quale stamattina mi ha accusato di aver twittato un tweet di Alessandro come esempio di grande orrore. Ma quello è un piccio prezzolato, è un piccio prezzolato. Ti fa morire che stanno lì a stare... Non occuparti di questa cuffa. Come sintomo, le aggressioni che subisco io e non solo io, dimostrano che sono nervosissimi, dimostrano che sanno che stanno arrivando alla fine della loro menzogna e quindi devono smentire, tacitare, deridere, chi dice un'altra cosa? C'è un po' di nervosismo, è bene. Sono due anni e mezzo che mi crocificano, all'inizio devo dire ero completamente solo, tu lo ricordi Fabio? Sì, come no. Ho partito le cose più inenarrabili, dalla sospensione alla vicenda dei campi... Abbiamo subito cose allucinanti. Sono stato messo nelle liste americane dei principali diffusori di menzogna... Pericolosi, pericolosi. È un miracolo che io sia vivo ed è un miracolo tuttora secondo me. Pazienza, non sono riusciti a tacitarmi, porto questa medaglia e questa croce come una medaglia.